Tenere alta la guardia perché la pandemia non è finita e il rischio di trovarsi a fare i conti con il covid dietro l'angolo. Per questo è necessario ora più che mai avere comportamenti responsabili e soprattutto vaccinarsi. Questo il messaggio del presidente dell'ordine dei medici di Salerno, Giovanni D'Angelo, a proposito dei focolai che in queste ore stanno ottenendo col fiato sospeso due comunità. Ad Angri positivi 14 lavoratori in un'azienda conserviera, via allo screening di massa tra gli oltre 800 dipendenti. A Buccino invece contagiati 20 anziani e 4 operatrici di una casa di riposo. Qualcuno potrebbe dire al contrario visto e considerato che anche i vaccinati vanno incontro a una reinfezione allora forse non tutto non funziona perché oramai questo è il modo con cui si gioca io direi con le vite umane. Quando poi si guardano due cluster come quelli che lei ha citato beh io direi andiamo a vedere casualmente probabilmente soprattutto nel cluster di Buccino sono anziani e la possibilità che loro si infettino nonostante le vaccinazioni esiste come esiste anche per gente più giovane. Per la guida dei camici bianchi salernitani è necessario sensibilizzare chi ancora rifiuta il vaccino ed anche il Green Pass è la strada giusta per mettere in sicurezza quante più persone possibile. La vaccinazione deve essere vista da tutti come veramente un atto di civiltà come un atto di conservazione della specie perché il problema non è del singolo non è dei gruppi e il problema è della società.